Marche in Canto, concorso canoro nazionale che nasce dalla passione per la musica e dalla voglia di valorizzare il territorio e le sue realtà. Nel corso delle edizioni abbiamo ben definito la personalità del progetto, nel quale avremo piacere di coinvolgervi. Vorremmo che sia un percorso di preparazione per aspiranti cantanti in arrivo da tutta Italia, ai quali metteremo a disposizione i mezzi per crescere. Tutto si basa su una sana e corretta competizione, ma fare gruppo è una priorità alla quale non siamo assolutamente disposti a rinunciare. Testimoni di questa filosofia sono i concorrenti delle passate edizioni, che sono ritornati nelle marche al di là del concorso stesso. Anche quest'anno i vincitori si esibiranno, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, al Teatro Centrale di Sanremo nel format Sanremo Unlimited, patrocinato da Casa Sanremo e nostro partner ufficiale. Questa collaborazione ci permette ed è nata per portare le marche al di fuori del nostro territorio nel settore musicale. Iscriviti subito! Marche in Canto è aperto a tutti i cantanti e cantautori non professionisti, dai 14 anni in su, senza limiti di età. È composto da quattro categorie, inediti, junior, young, senior, con una prima fase di preselezione online, alla quale seguiranno semifinali e finale dal vivo. Non dimenticare di scaricare il regolamento ufficiale dal nostro sito web www.marcheincanto.it Marche in Canto è anche valorizzazione del territorio, facendo conoscere a concorrenti e accompagnatori le bellezze dei nostri borghi e l'ospitalità delle strutture recettive. La finale del concorso si terrà in autunno, a teatro. Quale occasione migliore per mostrare i piccoli gioielli marchigiani? Siete con noi nel percorso che rilancia il territorio, la cultura e la musica di una regione di poeti e musicisti importantissimi, dando la possibilità a chi ama il canto di esibirsi di fronte al nostro pubblico e di scoprire le bellezze del nostro territorio. Marche in Canto, per fare tutto questo, ha bisogno del supporto dei cantanti che si iscrivono, ma soprattutto della collaborazione di proloco e comuni che possono e vogliono ospitare uno spettacolo completo di canto, danza e cultura e dell'investimento di aziende del territorio, prendone visibilità a livello regionale e nazionale. Tutto l'evento è accompagnato da una fitta comunicazione con tanti videopromo come quello che state guardando, comunicazione social, manifesti, locandine e volantini fino alla chiusura ufficiale che si tiene il 31 dicembre. Buon canto!